Ho portato avanti due percorsi, uno personale e uno in realtà di coppia. Voglio partire con quello personale perché ho veramente avuto un'occasione bellissima e vi ringrazio davvero infinitamente di questo, anche per rivendicare il ruolo di donna indipendente, forte, che allo stesso tempo ha voglia di sorridere, ha bisogno di leggerezza, senza alcun tipo di malizia, ma proprio con la voglia semplicemente di star bene e quindi rivendicare comunque la possibilità di essere una donna moderna, forte, ma anche una donna estremamente fragile e la fragilità poi in realtà l'ho scoperta in relazione a Lorenzo, aver recuperato nel fallo finale quelle sue sensazioni, quelle sue emozioni in realtà mi ha aperto un mondo che in realtà mi mancava, noi parliamo tanto, la verità è questa, noi parliamo tanto, però ecco, Tentation ha dato una bella botta, una bella scossa al nostro rapporto, quella che ci voleva, lui perché non vuole perdermi, io perché non voglio perdere lui e quindi un accordo insomma siamo riusciti a trovarla, insomma il punto di incontro siamo riusciti a trovarlo.